Dal 1 al 3 dicembre al Parco del Castello torna la Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo, la seconda edizione. Questa mattina a Palazzo Silone la presentazione, evento promosso dall'Assessorata all'Agricoltura della Regione Abruzzo con Arap soggetto attuatore. Sono coinvolte anche le Camere di Commercio, l'Arta e Galle, la Federazione Nazionale, Associazione Tartufa italiani. Ci saranno circa 60 aziende e 18 ristoratori inseriti nell'app dedicata per la ricerca di locali vicini dove si può gustare il tartufo, baby parking per i più piccoli, un servizio di bosnavetta dal termine di Colle Maggio con sosta gratuita e poi ancora vendita e food truck, incontri business to business tra produttori regionali e buyers dei mercati esteri dai paesi arabi e del nord Europa, oltre a tanti influencer. Seconda edizione, l'avevamo promesso che sarebbe stata una fiera istituzionalizzata negli anni, 1 e 3 dicembre ci saranno oltre 60 stand, ci saranno gli influencer nazionali proprio per valorizzare e promuovere quello che è l'oro nero della nostra terra, i nostri tartufi d'Abruzzo. Ci sarà la possibilità di degustare con delle masterclass con chef nazionali e internazionali, ci sarà la possibilità di acquistare, ci saranno oltre 60 stand dove valorizzano il tartufo e l'agri-food in generale nella nostra terra d'Abruzzo. Un grande progetto di valorizzazione dove al centro c'è il tartufo ma c'è l'Abruzzo, c'è l'Aquila e c'è la voglia di far conoscere quella che è una regione che ha prodotti unici di frutto di una biodiversità. Il tutto nasce con un progetto di grande coinvolgimento che vede il coinvolgimento delle Camere di Commercio, il coinvolgimento di Arta, il coinvolgimento dei Gall e ha come soggetto attatore Arap che è il nostro braccio operativo per le organizzazioni di questo grande evento. Protagonista è il tartufo, eccellenza dei prodotti tipici del settore agroalimentare abruzzese con le sue nuove varietà di bianco e nero. L'Abruzzo è il secondo produttore di tartufonero in Italia. Nel territorio regionale sono circa 3.500 cabatori, circa 40 le aziende di trasformazione con un'attività di esportazione sempre più rilevante. Noi stiamo svolgendo tra i nostri compiti organizzativi, c'è proprio questo specifico di dedicare il prodotto all'internazionalizzazione. Lo stiamo facendo in ogni contesto in cui siamo stati chiamati dall'assessorato all'agricoltura a intervenire sui mercati internazionali e i riscontri sono enormi perché ovviamente sia in Italia e quindi anche all'estero il discorso che il tartufo sia un prodotto anche e soprattutto in alcuni casi abruzzese è una cosa nuova, è una novità che però stanno scoprendo in maniera molto positiva.